buongiorno ciao a tutti ragazzi e bentornati su bristaddiction io sono marco bracca e sono un appassionato di orologi allora sono qui nella gioielleria cielo di milano mi stanno facendo vedere un landscape di questa bellissima gioielleria come sempre vi invito a fare un salto perché è in piazza duomo ed è una tappa di quelle da vedere se venite a milano e sono qui in compagnia di roberto castagna buongiorno roberto allora ti lascio presentare presentati insomma al nostro pubblico e racconta un po chi sei io sono responsabile del mercato italiano della marca blamperna la per la marca più vecchia del mondo anno di fondazione 1735 e sono particolarmente contento di essere in questa location che a milano angelo cielo e dei suoi fratelli perché una delle gioiellerie che prima una delle prime che ha creduto nel nostro marchio la nostra marca è una marca che fa parte del settore prestige che ha naturalmente produce tutto in casa quindi quella che si chiama manifattura mi permetto di fare una piccola puntualizzazione manifattura vuol dire che si fa tutto da noi non vuol dire che fanno fatto tutto a mano quelli sono gli amanuenti certo no certo infatti questa è una cosa che piano piano si sta un po' decostruendo a livello di conoscenza mediatica la manifattura con l'orologio fatto a mano nelle micro componenti non è una cosa che ormai soltanto penso del passato ma si fanno delle componenti ancora per esempio le masse oscillanti per esempio vengono fatte a mano vuole circa una mezza giornata per fare una massa oscillante e le fanno al lavoro artigianale assolutamente si sono delle parti che vengono per non parlare poi delle personalizzazioni che blamperna in particolarmente quindi richiesta naturalmente attenzione che anche quando si ha l'ausilio dei macchinari vengono poi gestiti c'è una grossa componente umana naturalmente assolutamente sei venuto in visita oggi da lui per immagino per motivi vostri di affari no per orologi che deve vendere ma che cos'è che mi hai fatto vedere qualcosa che c'è da far vedere al pubblico io qui vedo una bella selezione di pezzi che tra l'altro vi farò vedere sul canale proprio con dei video dedicati e vedo qui dei diver di grandi dimensioni vedo qui una bellissima riedizione di un vintage sì allora in pratica abbiamo fatto una piccola una piccola presentazione un piccolo spaccato di quello che è il mondo di blamperna i diversi sono molto importanti in questo momento noi le decliniamo in varie in varie dimensioni e in vari metalli però la parte del leone lo fa il 50 fatum e i battiscafi che sono praticamente quello che considerato da tutti primo orologio dell'epoca moderna subacqueo 50 fatone è datato 1953 è stato primo orologio al mondo con una ghiera unidirezionale unidirezionale per i tempi di immersione fu creato per una componente militare i mutatori da combattimento francesi su specifici indicazioni loro le marche dell'epoca di orologeria non erano in grado di realizzarle blamperna lo fece che fece il primo 50 fatum sull'onda di quello poi sono stati realizzati tanti 50 fatum negli ultimi 60 anni a ricalcare in pratica riedizioni cose del genere peraltro ripeto 50 fatum è 53 qualche anno dopo il battiscafi che era la versione diciamo cittadina perché aveva rispetto al 50 fatto il datario e quindi per l'epoca era una cosa un po più quindi quelli che volevano avere un orologio subacqueo ma poter portare tutti i giorni un orologio un daily watch degli anni cinque esattamente è stato chiamato battiscaf oggi abbiamo il battiscaf 50 fatto nella nostra collezione con misure diverse ma per tornare al discorso di cui mi chiedevi prima questa è un'edizione limitata si chiama no radiation no rad un orologio che è stato presentato questa settimana infatti si è recentissimo e so che tra l'altro questo pezzo è già stato venduto ad un cliente quindi grazie mille ad angelo e insomma gioielleria per avermi dato la possibilità di fare le riprese prima questo orologio sparisse perché 500 pezzi al mondo molto limitato per immaginare che gli orologi chiaramente sono sono già venduti è stato fatto per diciamo un test che si chiama tribute tribute of 50 fatum no radiation perché appunto è un tributo a questo orologio che realizzavano a metà degli anni 60 per ai nodatori da combattimento dell'esercito tedesco è stato il primo che vedete il logo giallo e rosso perché il primo che non montava componenti radio quindi si era già passato all'inizio esattamente molto pericoloso molto pericoloso dal punto di vista della salute per tranquillizzare tutti gli acquirenti si decise di mettere questo simbolo della radiazione del radio crociato quindi cancellato appunto no radio e qui è un tributo all'orologio dell'epoca la misura volutamente dell'epoca piccolina cinturino anche si chiama tropical l'avrete visto forse l'avrei visto anche in altri modelli classico il caoccio però fatto esattamente perché li facevano così all'epoca quindi è una riedizione è un tipo di cinturino che adesso sta tornando molto in voga si ripeto sempre perché fa verso agli orologi dell'epoca degli anni 60 e 50 anzi 60 direi movimento naturalmente e non è dell'epoca molto movimento attuale no con Blampère che comunque è un movimento base è un movimento base Blampère parla di un movimento automatico a due bariletti con quattro giorni di riservato di carica e ha un livello di finitura molto bellissimo lo state guardando giudicate voi un movimento base già a quattro giorni di riserva di carica chiaramente un subacqueo a 300 metri professionale quindi cassa vite provo la vite quindi quello che sono tutte le parti il superluminova dicevamo è sulla sia sulla ghiera che sulle lancette che ha sorpreso tantissimo non è radioattivo a livello di tecnica ma è un superluminova che fra l'altro ha questo colore beige arancio che evidentemente è un richiamo molto vintage dell'epoca che avevano fatti così e poi è molto 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 luminoso quando la ghiera naturalmente è in vetro zaffero una ghiera zaffera bombata insomma ti ricordi la bachelite viene da dire o le ghiere in plexiglass e facevano già le prime erano già in zaffero e bella appena è uno dei primi che li ha fatti poi in realtà posso darti posso farti vedere una piccola particolarità se vuoi ti racconto sia su questo ma anche quello che posso io che non è un limited edition una serie normale però una piccola chicca vedete il vetro che è un vetro zaffero evidentemente però se voi lo mettete di costa si vede il bianco questo è l'anello della luce perché perché gli orologi fino a quando è stato inventato dietro zaffero stiamo parlando degli anni settanta non prima i vetri erano di plastica tutti gli orologi negli orologi subacquei perché adesso una tenuta stagna migliore venivano piegati per cui quando si mettono di costa si vede questo bianco perché non si vede la cassa come in un orologio normale c'è la parte metallica interna si vede il bianco perché appoggiava quando cominciano ad esistere gli orologi e i vetri zaffero chiaramente tutti l'hanno montati perché sono molto migliori non si ricano non si opacizzano però questo effetto era sparito blampe 50 fatton per ottenere questo effetto voi sapete che il vetro zaffero non si può piegare certo ovviamente si può leggermente acquare non si può piegare allora cosa ha fatto prende in questo caso sia per questo che per gli orologi si prende una lastra di vetro zaffero viene scavato in questa maniera e applicato è come se fosse stato curvato in realtà c'è tanto scavato per ottenere avere un vetro zaffero ma l'effetto scenico dell'orologio dell'epoca perché il quadrante il vetro appoggia su 40 quindi è una più di una più di un vetro zaffero bombato proprio una sorta di cupola esattamente tant'è vero che se tu guardi su un orologio diciamo normale classico si vede la differenza si vede che qui vedi la cassa dentro perché il vetro è leggermente bombato ma appoggia qui sarei curiosissimo di vederlo smontato un vetro di questo tipo questa è una piccola chicca che hanno questo tipo di orologi che non tutti sanno interessante e allora io vedevo qui intanto dato che una delle tendenze moderne una delle richieste moderne degli appassionati soprattutto quelli che entrano in questo mondo grazie al web è di desiderare di cercare dimensioni di nuovo contenute un po come gli orologi vintage di una volta io vedo che infatti voi avete una proposta che va dai quanti sono questi qui 42 42 milioni 42 e mezzo a in 38 invece della versione diciamo lady barra poi la versione per uomini ragazzi del polso un po più piccolo ed è una offerta molto interessante secondo me diciamo prima c'era un momento che si tende a avere gli oggi sempre più grandi esattamente poi del nuovo piccolo in questo momento la tendenza vera è averli un po tutti cioè perché un po di gusto un po il piccolo piccolo tra virgolette torna un po io quando devo consigliare per esempio un orologio classico per qualcuno parlo sempre in 40 mm perché un 40 mm quando parlo soprattutto sui classici tipo questo questo è un 40 che non è molto questo sembra molto più piccolo in realtà per la questione di ghiera dico sempre 40 perché il 40 è un orologio che fra trent'anni sarà sempre ancora una buona misura non so cosa sarà di moda fra trent'anni però il 40 è una via di mezzo e qui si può comprare anche gli orologi il mio un 45 eccetera però dobbiamo sapere che la tendenza è un po come una cravatta come dico sempre io come una giacca cambiano però se uno prende qualcosa di via di mezzo più o meno è cautelato nel caso nostro ma non nascondo venire incontro anche delle esigenze di una dei clienti nuovi si cerca anche di poter non si si nasconde avere un prodotto che possa anche andare bene anche anche per loro lampen così vi racconto anche un altro piccolo aneddoto è l'azienda che ha fatto e tuttora aveva il record negli anni settanta dell'orologio del movimento più piccolo del mondo gli orologi soprattutto sugli orologi da donna gioiello che si usavano all'epoca molto piccoli bellissimi e noi avevamo il prevetto l'epoca e tuttora c'è del movimento più piccolo del mondo oggi interessa poco perché gli orologi sono tutti grandi però è una tipicità della marca blanc bain e quindi in questo caso movimento è un movimento sempre di manifattura normale ma che montato in questo luogo questo questa soluzione che peraltro c'è in blu c'è in nero un orologio assolutamente portabile tutti i giorni questo è un battiscaffa appunto dicevamo su bacio un piccolissimo diver iper completo ma dal diametro contenuto assolutamente adesso fanno vanno tutti i matti mi sento di dire che probabilmente manca un 40 mm nella proposta una proposta variegata in realtà allora l'idea di non è di fare tutte le misure l'idea è semplicemente di fare diciamo che su un subacqueo mi sento di dire che la misura giusta il 42 43 giusta poi relativo ripeto il mio è un 45 però diciamo che questa volta secondo mio parere è una misura corretta anche per come si diceva la ghiera porta a restringere soprattutto adesso questo è un quadrante chiaro ma sui quadranti scuri quadranti neri tendono a rimpicciolire l'orologio normalmente il quadrante chiaro tende sempre a ingrandire effettivamente è così in generale gli orologi che ci sono questo che è bianco sembra molto più grande se infatti ti facessi vedere questo orologio in nero ti sembra erano molto più piccole proprio una cosa di effetto visivo assolutamente per cui questo è già chiaro però questa è la misura giusta a mio parere non è che si vuole declinare tante misure battiscaff questo che per esempio in mano io è una serie in elezione limitata 500 pezzi anche lui è stato presentato qualche mese fa anche questi sono esauriti c'è la versione normale di questo orologio esiste la versione diciamo da tutti i giorni normale quindi con il quadrante nero con il quadrante blu ho fatto parte questa versione desert col day date molto bella però anche questo riprende un orologio di blanpen degli anni 70 quindi non ci siamo inventati niente questo quadrante che va un po a sfumare il day date che è una complicazione tipica di quell'epoca esatto che andava parecchio di moda molto di moda e anche gli indici applicati squadrettati a specchio esattamente una caratteristica molto molto manifestante colore al cinturino questo colore desert come diciamo noi anche questa è una riedizione rilaborata di un orologio degli anni 70 che faceva faceva blanpen perché comunque ha come dicevo prima una storia molto importante ma infatti questo qui l'ho provato mentre facevo le riprese prima è un orologio di la verità appare più piccolo di del diametro dichiarato effettivamente quindi è molto bilanciato quadrante grazie probabilmente all'indice applicati va a stringersi verso il centro in generale gli orologi io lo dicevo prima lui a te direttamente io ho un polso molto piccolo nonostante porto un orologio grande che è un 45 decisamente più grosso molto grosso in realtà una volta indossato l'orologio non ha una questione poi credo di abitudine un po' come tutte le cose dell'abitudine dell'occhio intendo non solo del polso per i classici discorso è un po' diverso nel senso che le misure che noi proponiamo la parte maschile 38 40 e poi la parte femminile diciamo dai più piccoli che sono 27 28 mm finali dai 24 25 36 io qui ho due esempi un carica manuale molto sottile molto sottile per noi un extra piatto con la caratteristica di avere la riserva di carica indica il tempo sul fondello belli sulla parte dietro è molto elegante diciamo il nostro entry l'aereo è un carica manuale quindi quando diciamo chiamiamolo primo prezzo come parlano tutti ma anche negli orologi più più semplici può notare la qualità della della lavorazione e prato vi facevo facciamo notare prima appunto la caratteristica di Blampin che è questa doppio gradino che si chiama double pom che la traduzione doppia mela in tutti gli orologi di Blampin che non abbiano ghiera o di brillanti ci sono questo doppio gradino doppio gradino che rappresenta un po' l'emblema di Blampin molto bella infatti e mi dicevi praticamente della della riserva di carica questo è un modello carica manuale molto sottile con una riserva di carica nella parte posteriore quindi sul fondello esattamente che non inficia la pulizia del quadrante esatto molto molto bella come soluzione elegantissima in realtà le caratteristiche che storicamente dovrebbero avere gli orologi carica manuale dovrebbero perché dico che dico perché ormai ognuno si fa un po' di tutto però storicamente gli orologi carica manuale oltre non avevano mai secondi al centro ma al massimo i piccoli secondi al 6 ma generalmente non avevano nulla proprio sul quadrante vuoti storicamente si distinguevano all'automatico e invece aveva secondi al centro quindi carica manuale dovrebbe avere il quadrante completamente vuoto questo per i puristi esatto il dress watch puro io dovrebbe essere questo invece passiamo un po più complicato che è un calendario effettivamente se penso per la pen oltre al classico sportivo diver fissi fatto se penso a un orologio con il calendario il logo centrale è la fase di una che è stato una bene è stato diciamo negli anni 80 la marca che ha risuscitato la fase di luna che non si usava è un esempio abbastanza calzante di quello che è la qualità e le finiture di un orologio con la penna è un calendario completo completo perché il calendario annuale è quello che segna i 30 e 31 quando ci sono e il 28 diciamo che le differenze sono il calendario perpetuo cantina in prefettuale che segna 30 31 da dove ci sono 30 31 28 febbraio e il 29 ogni quattro anni tutto questo lo fa da solo programmato per n centinaia di anni il calendario annuale segna 30 31 da dove se necessità e il 28 sempre per cui ogni quattro anni bisogna tirarlo avanti per capirci questo è il calendario completo questo semplice segna le quattro informazioni del calendario completo cioè giorno settimana mese data e fase luna delle quattro informazioni e chiaramente segna sempre 31 per cui questo va messo a posto mensilmente se cambia al mese è il vostro complicato il tri level esattamente ti faccio notare una piccola cosa che forse hai notato non ha i bucchi sulla cassa per la regolazione come hanno tutti gli orologi delle quattro informazioni con un correttore normalmente la penna ha un sistema prevettato queste levette che vedete sotto le anse ma dai tirandola verso la cassa io porto avanti così da non avere sporcizia sulla cassa evitiamo anzitutto non si vedono i buchi che possono non piacere possono non piacere si evita di far entrare polvere come giustamente fatto notare e l'orologio rimane più lineare non lo sapevo e tra l'altro per fare una piccola chicca qualche minuto fa è entrato un cliente comunque c'era un orologio da una riparazione di un vecchio modello e aveva ancora i buchi quindi è un brevetto più recente assolutamente sì è un brevetto una piccola cosa ma una piccola grande cosa comunque perché non ho mai visto una cosa del genere ci sono dei rimandi meccanici perché non si interviene nella classica posizione esattamente è una cosa io ho chiaramente delle piantine dove si vedono dei disegni di questo questo progetto ed è una cosa simpatica che non è mai stata fatta notare un'altra cosa interessante di questo orologio mi piace molto e la forma sinuosa particolare unica direi della dell'indicatore del battaglio della lancetta della del pointer date che mi racconti un po perché una forma così la lancetta fatta diciamo così storta che la mano così può a serpente è un omaggio agli orologi ai ginevrini diciamo del 1700 in realtà l'epoca le lancette le facevano sia come colore questo blu che spesso magari vedete sulle lancette breguet per capirci e è anche fatto di essere in questa maniera questa lancetta fatta un po ricurva era dove lo facevano gli orologi ai ginevrini dell'epoca e quindi un omaggio a loro e alla loro tradizione e la loro capacità lampena ha deciso sui suoi dal dove c'è da segnare esattario di avere questo tipo di lancetta un rimando praticamente alla tradizione assolutamente sì peraltro lampen e ti do un'ultima indicazione capi saldi la nostra marca primo caposaldo è che la marca più vecchia del mondo 1735 il secondo caposaldo è che noi siamo l'unica marca al mondo che non ha mai fatto un orologio a quarzo è vero è una cosa che è che il nostro claim pubblicitario diceva dal 1735 non abbiamo mai fatto un orologio a quarzo e mai lo faremo ma per non ha mai fatto un orologio a quarzo è una cosa che su un livello come questo condivido che ad esempio su un brand come patè che può far storcere secondo me sì ma diciamo che va tutto in certi periodi degli anni settanta perché tante marche non lo fanno oggi certo quando trovano un periodo di facevo lampen non ha mai e allora io per concludere ti ti ringrazio per aver accettato questa intervista e sono molto felice e quindi da quanto ho capito anche l'opportunità di black penna di approcciarsi a youtube è comunque ben accetta raccontami un po com'è andata ma in realtà è tutto in divenire tu mi insegni che su questo campo è tutti i giorni ci sono evoluzioni cose del genere e cose nuove noi siamo chiaramente una marca importante e quindi come dire molto legata alla tradizione però è una marca molto moderna blampen lo si vede anche del tipo di prodotti il nostro presidente ci ha tenuto da sempre peraltro per i presidenti forse anche uno dei più giovani perché non arriva a 50 anni signor Hayek e quindi è uno è molto vicino al mondo al mondo moderno e al mondo dei giovani quindi uno dei canali più importanti tutto quello che sono i social media sono delle cose a cui stiamo guardando con interesse assolutamente ripeto le nostre collezioni sono un esempio di quello che è l'approccio che ha la marca verso le nuove generazioni c'è stata questa opportunità attraverso Angelo Cielo titolare della gioielleria dove siamo ospiti oggi di poter parlare con te appassionato e mi faceva piacere sia perché mi sembri una persona molto capace sia perché sei una persona giovane e quindi noi vogliamo approcciare il mondo dei giovani in modo giusto e attraverso i canali che voi conoscete infatti apprezzo tantissimo ed è una cosa molto bella il fatto che siete riusciti ad avvicinarmi in modo così semplice insomma una bella chiacchierata informale informalissima tra di noi insomma ragazzi grazie allora se siete arrivati fino a qua se il video vi è piaciuto fatemelo sapere insomma ditemi che cosa ne pensate qui sotto degli orologi blank pen come lavorano della loro filosofia e di questi pezzi che vi ho mostrato io ti ringrazio tantissimo e ragazzi grazie a tutti ciao